Uno spettacolo di serata, con tanta musica, grandi interpreti che si incontrano, tante voci che si uniscono in un unico coro, per festeggiare il Natale. A Milano, Piazza del Duomo diventa teatro, per notte di Natale. Presenta Lorella Cucarini, martedì alle 21 su Canale 5. Mai così tanta potenza in una pila Duracell, e mai così tanta durata. Nuova Duracell Ultra M3, con l'esclusiva tecnologia M3 e la pila alcalina più potente del mondo. Avremmo voluto farvi gli auguri ad uno ad uno, ma 30 secondi non sarebbero bastati. E allora, tanti auguri a tutti di Buon Natale, e un anno ricco di tantissima dolcezza. Tanti auguri e Buon Natale, da Ferrero. Corri! Omnitel ti fa parlare gratis. Quello che spendi entro il 31 dicembre fino a 500.000 lire, Omnitel te lo restituisce a gennaio. Attiva una ricaricabile Omnitel, e parli gratis fino alla fine dell'anno. Ma che bel nero! È nuovo? No, è lavato con perlana Black Magic, quello col fissante per il nero. Nuovo perlana Black Magic, nero come nuovo. Passaparola. Regalati un telefono Omnitel, e parli gratis fino alla fine dell'anno. Da Omnitel Vodafone. No, non voglio fuffare l'attore. No. L'ho fatto per raccontare, enti nella mia sfoglia, metto solo le cose migliori. Sfoglia velo allo spec. La pasta fresca di Giovanni Rana. E adesso che farà? Sfoglia velo al tantufo? Momenti sfizi. Caparicci. Raptus divini. Eccole, i miei torroncini. Condorelli. L'invenzione del piacere. L'amor è un trésor. Lancôme. Quest'anno dobbiamo crescere di più. Il 30% in più. New Extra Large. 30% more Swatch. Se riesci a immaginare la morbidezza più morbida, come quella di un petalo, e l'assorbenza più intensa, più blu, sei pronta per scoprire? Petalo blu. L'inesidea l'invisibile petalo blu. Tutto nuovo, asciutto e morbido. Fuori è morbido come un petalo. E dentro assorbe anche i flussi più intensi. Più blu. L'asciutto è garantito. Nuovo l'inesidea, petalo blu. La morbidezza di un petalo e l'asciutto che vuoi tu. È dura svegliarsi quando la montagna dorme ancora. Anche per le ragazze della Nazionale di Ski. Ma Pocket Coffee è con loro. Ricominciamo Quando è il momento di dare di più Pocket Coffee, la carica in tasca. Ricominciamo Grazie a tutti. Ricominciamo Grazie a tutti.